Contratto ancora da firmare e lavori fermi. Anche il cantiere delle paratie di Como attende la fase 2. La regione Lombardia torna a parlare degli attesi lavori sul lungolago cittadino, ma soltanto per spiegare i motivi dello slittamento della firma del contratto tra infrastrutture lombarde e lati costituente l'impresa appaltatrice che dovrà realizzare le operazioni. Oggi è stata diffusa una nota da parte dell'assessorato enti locali guidato da Massimo Sertori. Si conferma che l'impresa ha consegnato tutti i documenti previsti di legge propedeutici alla stipula del contratto dei lavori e quindi si è sostanzialmente pronti per la firma dello stesso. Lo slittamento, si legge, è dovuto alla situazione emergenziale sanitaria in corso e ai provvedimenti conseguenti, in particolare alla sospensione dei termini di tutti i procedimenti pendenti al 23 febbraio e fino al 15 maggio. In altri termini, precisa la nota, sarebbe inopportuno e probabilmente illegittimo stipulare comunque in contratto la cui decorrenza dovrebbe essere immediatamente sospesa sino al 15 maggio non potendo far partire le tempistiche di legge, cioè i 45 giorni per la consegna dei lavori. Nel periodo dei 45 giorni seguenti la stipula, che comunque, come detto, non potrebbe partire prima del 15 maggio, l'impresa appaltatrice svolgerebbe una serie di attività propedeutiche all'avvio del cantiere vero e proprio. Di fatto quindi si attende la fase 2 per procedere. Una eventuale accelerazione sarà possibile in funzione delle modifiche e delle tempistiche di legge che potranno essere contenute nell'atteso provvedimento di fine aprile del Governo, che definirà la cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria, con l'attesa ripartenza dei cantieri, delle opere pubbliche e delle attività edilizie in genere. Così si conclude la nota dell'assessorato regionale. Crono programma alla mano, in realtà la firma del contratto era prevista per dicembre dello scorso anno, termine poi slittato a gennaio. Già prima dell'emergenza dunque si era accumulato l'ennesimo ritardo, che ora si è esteso. Impossibile dunque in questo momento indicare una data per la ripresa del cantiere sul lungo lago. I lavori, quando finalmente inizieranno, dovrebbero durare 21 mesi e costare circa 13 milioni di euro.